Giulio Dori, complimenti perché per l'ennesima volta, almeno per me ma credo per tanti in tribuna, sono arrivati gli applausi, una gara importante sotto tutti i punti di vista, poi ovviamente è finita la benzina a un certo punto immagino. Sì, innanzitutto grazie, grazie per i complimenti, penso che è stata una gara difficile, però siamo riusciti a portarla in avanti, poi sono contento in primis perché quando sono uscito ho visto tutta la gente che gli applausi, le cose, quindi per me è una cosa bellissima. Sotto l'aspetto tattico credo sia questa la posizione migliore, quella che preferisci di più, perché ovviamente hai meno forse compiti difensivi, anche se hai una grossa mano, però arrivi forse più fresco lì davanti e oggi hai sfiorato anche il gol. Sì, sì, ho avuto la possibilità, cioè ho la possibilità di andare più in avanti, di spingere che è magari il mio forte e quindi posso sfruttare più quella caratteristica che magari in difesa faccio un po' più di fatica, però comunque cerco di fare anche tutte e due, certo che il ruolo secondo me è quello. Ascoltami, Campobasso e Samba che non si fermano, ma non vuole fermarsi nemmeno l'Aquila da quello che ho capito. No, ma a prescindere di quello che stanno sopra, Campobasso, San Mettese, penso che noi non guardiamo nessuno, noi guardiamo solo noi, cerchiamo di fare i più punti possibili.